Sì, qualche anno fa mia moglie e mia figlia sono rimasti uccise per caso in un incidente. Quasi ieri quando ti ho visto in quella situazione ho rivissuto la stessa scena del mio maledetto giorno. Quindi per me è stato normale aiutarti. Mi ricordi molto mia figlia. Mi chiedeva di portarla il giorno delle sue nozze con il camion perché le piaceva tantissimo. Aveva solo otto anni e invece adesso non potrò più farlo. E neanche lei. Mi dispiace tantissimo. Anche a me.